Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Senegaglia, quattro feriti di un incidente, autostrada chiusa per un'ora Patto tra ricci e seri su turismo e viabilità, l'opposizione fanese va all'attacco e definisce l'accordo un teatrino di mezza estate Fermo pesca in vigore per tutto il mese di agosto, ma per gli operatori fanesi è un provvedimento inutile Sabato e domenica torna Fanno alla Festa del Mare con celebrazioni e fuochi d'artificio Mentre dal 6 all'8 agosto, tre giornate con grigliati in festa a Montecucco Fra poco in collegamento da ripatta di Cartoceto per l'ottava edizione del Borgo in Festa Buonasera e ben ritrovati sul canale 17 del Digitale Terrestre per una nuova edizione di Di occhio alla notizia. L'autostrada 14 è rimasta chiusa per circa un'ora questa mattina Fra i caselli di Senigaglia e Marotta in direzione nord per un incidente stradale Che al chilometro 191 ha coinvolto un'auto che tra i Nauna o Roulotte poi è andata completamente distrutta E un furgone. Quattro le persone contuse assistite sul posto dal personale del 118 Intervenuto insieme ai vigili del fuoco. Le cause dello scontro sono ancora al vaglio della polizia stradale Il traffico è poi ripreso regolarmente Ed è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di lesioni personali Il 26enne che il 27 luglio scorso a Senigaglia aveva ingaggiato una collutazione con l'ex fidanzato Di una sua amica che aveva fatto irruzione in casa di lei armato di coltello e li aveva feriti Prima di uccidersi gettandosi dal quarto piano del palazzo Visti i segni di collutazione rinvenuti sul corpo del deceduto A seguito del lancio dal quarto piano della palazzina di via Podessi Dice il Roberto Paradisi che è l'avvocato La giovane vittima dell'aggressione un 21enne ha assunto la veste di indagato Un atto per ora certamente dovuto da parte della procura E dopo il patto siglato ieri tra i sindaci di Fano e di Pesaro su turismo e infrastrutture L'opposizione fanese va all'attacco Questo dicono, ad esempio, i grillini è un teatrino di mezza estate Sentiamo Beh, è una firma di un protocollo che purtroppo non sta in cielo in interno Ma soprattutto per la fantascientificità Stesse parole addirittura del sindaco Seri Degli accordi appunto presi Opere faraoniche che gli ultimi decenni della storia italiana Ci fanno capire che non verranno mai realizzate Come l'arretramento addirittura della ferrovia dalla costa all'entroterra Il completamento della Fano Grosseto 100 milioni per collegare Fano e le due interquartieri di Fano e Pesaro Noi potremmo aggiungere a questo punto E anche gli asini volano, insomma Sono cose che difficilmente verranno realizzate Sulle implicazioni pratiche di quanto messo Nero su Bianco Nel patto siglato ieri I grillini quindi aspettano seduti sulla riva del fiume Certi che nulla accadrà Ma sull'asse Fano e Pesaro Si è scatenata tutta l'opposizione E parte di essa Non ha tardato nella giornata di oggi Ad emettere comunicati stampa Più allargata anche ad altre argomentazioni più recenti Come la vicenda del Cecchi E l'esternazione degli esponenti di Fratelli d'Italia Che sull'argomento Attraverso il loro coordinatore locale Dichiarno che ormai si è capito Si legge nella nota Che Fano si è definitivamente inchinata a Pesaro La sanità pesarese ha vinto la battaglia sul Santa Croce Che verrà depotenziato, dicono Mentre sull'istruzione La vicenda della mancata succursale del Cecchi a Fano Mostra come Pesaro Stia colonizzando la città della fortuna Trasversali ed articolate Sono le considerazioni sulla vicenda Anche del movimento possibile Fano Perché primo, come recita il comunicato Sull'aspetto della sanità Avevamo sostenuto che la linea Era già stata tracciata e decisa Dal sindaco Ricci a Pesaro L'ospedale nuovo e a Fano La clinica privata convenzionata Secondo, perché noi di possibile Continua il comunicato Di fronte ad un dibattito sterile Tutto concentrato sulla localizzazione Dell'ospedale unico Avevamo proposto La valorizzazione dei presidi esistenti Esponendo la visione ospedalocentrica A quella della sanità diffusa Questo patto Tra le due amministrazioni È destinato quindi a tenere alta La tensione politica Nelle calde giornate estive Con le considerazioni Di chi vede sempre più in difficoltà Il sindaco di Fano E chi invece rivendica Come il diretto interessato I risultati raggiunti Siano la testimonianza incontrovertibile Di un falso immobilismo politico Dell'amministrazione comunale Nel consiglio comunale di Fano È stata bocciata La mozione nella quale I gruppi di Forza Italia La Tua Fano Progetto Fano E Udc Chiedevano maggiori controlli Del territorio Un aumento di vigili urbani Orari anche notturni Di controllo da parte Della polizia locale Sinergia con le forze dell'ordine Installazione di più telecamere E l'adesione al forum italiano Per la sicurezza urbana È stato chiesto inoltre L'impegno ad organizzare Come prevede il decreto Minniti Misure atte a prevenire I fenomeni di criminalità E a promuovere la legalità E il rispetto del decoro urbano Sembra che la città Non abbia più parcheggiatori abusivi Scrivono i gruppi di opposizione Che la criminalità sia diminuita E la città sia sicura Il tutto ho narrato Con un atteggiamento sprezzante Nei nostri confronti Quasi a voler sottovalutare Un tema importante Come quello della sicurezza Che concludono i consiglieri I cittadini affermano Essere un bisogno primario Adesso invece vi facciamo vedere Questa fotografia Che ci ha inviato Un nostro telespettatore Il buongiorno si vede dal mattino Ci ha scritto Macchina lasciata nella notte In via Giacomo Puccini Zona liscia È ritrovata stamattina così Ma un cittadino onesto Si chiede il telespettatore Non è più libero Di lasciare una macchina nuova Parcheggiata In una zona della propria città Cambiamo adesso argomento E parliamo di immigrazione Perché l'euro parlamentare Cecilie Chiang Sta girando l'Italia Per verificare Le buone pratiche Dell'accoglienza Nei giorni scorsi Prima di far visita Al centro per i chiedenti Asilo di Pergola È stata accolta Dalla sindaco Baldelli Il servizio di Veronique Angeletti Nell'ex Mutel Magi Erano in 150 Ad aspettare La parlamentare Europea Cecil Chiang Salvo due donne Un neonato Tutti i giovani uomini Venuti da Orciano Fosombrone Cartogeto Pesaro Cantiano Fraterrose Danc Alcuni Da Borgo Pace Strutture coordinate Dall'associazione Incontri per la democrazia Che gestisce Una serie di centri Di accoglienza Nelle province Di Pesaro Dancona Una visita Voluta Dall'ex ministro Dall'immigrazione Del governo Letta Per fare il punto Dell'accoglienza Il sistema Marche Li piace molto Il fatto che la regione Organizzi l'ospitalità Per piccoli numeri La chiama La politica Dell'accoglienza diffusa La sede ideale Per corsi di formazione Raggiungere un lavoro Quello che dà dignità Rende protagonista E trasforma i rifugiati In una risorsa Per il paese Di accoglienza Prima di incontrare 150 rifugiati Cecil Chiang È stata ricevuta Dal sindaco Di Pergola Francesco Baldelli Salito alla ribalta Per la sua forte protesta Per l'inserimento Dei 25 profughi Nella sua città Soprattutto perché Riteneva L'ex motel Maggi Non in possesso Dei necessari requisiti È stato approvato L'ordine del giorno Dal consiglio comunale In cui l'amministrazione Comunale di Pergola Su indicazione Ovviamente Degli uffici Può accogliere Volontari Per la gestione Di alcuni lavori Socialmente utili Sul territorio Ma spetta Poi alla cooperativa Proporre al comune Queste tipologie Di interventi Proprio perché I migranti Solo su base Volontaria E gratuitamente Possono prestare Queste attività Di lavoro Socialmente utile Però anche qui Vorrei lanciare Un allarme Attenzione A non distruggere Il mercato Del lavoro Attenzione A non approfittarsi Di lavori A basso prezzo O gratuiti Perché questo Può essere Un altro strumento Per le grandi Multinazionali E per i grandi Potentati Economici Per ridurre Il costo Del lavoro Con una concorrenza Sleale Utilizzando Delle persone Che fuggono Magari Dalla fame E che quindi Accetterebbero Tutti E quindi Accettano Magari Di lavorare Anche a 4 euro All'ora O anche a meno E questo Non lo possiamo Accettare I vigili Del fuoco Di Fanno Sono intervenuti Questa mattina Intorno alle 6 e 30 In località Chiaruccia All'altezza Della chiesa Di Tre Ponti Per tagliare Il tronco Di un albero Spezzato E pericolante Per permettere Le operazioni Il tratto di strada È stato temporaneamente Chiuso al traffico E ci sono arrivate Diverse segnalazioni Da parte Dei nostri Telespettatori Indignati Per l'abbattimento Di due querce Secolari In località Chiaruccia A Bellocchi Sempre Nella strada Sterrata Che fiancheggia Villa Adelaide A circa 500 metri Dal resort Dal comune però Ci hanno fatto sapere Che l'abbattimento È stato autorizzato Dal dirigente Del verde pubblico In quanto Le due roverelle Secolari Rispettivamente Di 80 e 67 cm Erano Irrimediabilmente Danneggiate Da malattie E parassiti Agosto È il mese Del fermo pesca Per la zona Dell'Adriatico Per gli operatori Ittici Però Non è questa La soluzione Ideale Per il ripopolamento Della fauna Marina Sentiamo Gli operatori Ittici E le associazioni Di categoria Sono sempre stati Contrari a questa Formula del fermo pesca Perché? Sì Lo siamo stati E lo continuiamo Ad essere Lo abbiamo manifestato Anche nelle sedi Ministeriali Un fermo pesca Che ha troppi compromessi Politici Che tenta Di accontentare Un po' tutti Ma non tiene In debita Considerazione Le problematiche Biologiche Le problematiche Ambientali Cioè soprattutto Quelle mirate All'accrescimento Delle forme Giovanili E quindi Al reclutamento Che è il futuro Per i prossimi anni Della pesca E allora Quali sono Le possibili alternative? Intanto Cambierai il nome Non più Fermo pesco Ma fermo pesca Ma tutela biologica Perché fermo Vuol dire Significa Fermare le imbarcazioni In un determinato periodo Noi Abbiamo fatto Una proposta Al ministero Che è quella Di avere Delle aree Di identificare Le aree di nerseri A secondo Delle varie specie Chiudere le aree di nerseri E permettere alle barche Di fare anche Un fermo più articolato Cioè ogni imbarcazione Può fermare La propria attività Questo avrebbe anche Un'altra finalità Quella di bloccare Le importazioni Il fermo pesca È iniziato nel 1985 Siamo nel 2017 E in questi 35 Anzi più Mi sembra 30 E passa anni Siamo passati Dal 27% Di importazioni Nel 76% Non sarà tutta colpa E responsabilità Del farmobiologico Ma Ritengo Che una buona parte Di responsabilità Ne abbia E rimaniamo a Fano Dove domani e domenica Si celebra La festa del mare Questa mattina Negli uffici del turismo È stato presentato Il programma Dell'iniziativa Gente di mare Gente di mare Gente con sale Nei capelli Con le profondità Nell'animo E con lo sguardo Fisso sull'orizzonte Non sono solo Le parole del testo Di una famosa canzone Sono anche Il manifesto Della gente Che vive Attorno al mare Famiglie Comunità intere Come quella affanese Che come tutte le città Che si affacciano sul mare Vive il rapporto Con l'elemento naturale Con aspetti Di amore E anche di odio A Fano La festa del mare Racchiude Tutti gli elementi Che compongono Questo rapporto complesso La festa Lo svago Ma anche il ricordo E il dolore Per il tributo In termini di vite umane Chiesto dal mare Sia civili Che militari Sabato 5 Domenica 6 Al via La 58esima edizione Dell'appuntamento annuale Con la festa del mare Un cerimoniale consolidato Nel tempo Per la domenica Con la deposizione Della corona Al monumento Dei caduti del mare E alle 9.30 L'uscita Delle imbarcazioni Dal porto Con la deposizione Della corona Dall'oro In mare E poi Un momento conviviale Con la caratteristica Rustita dei pescatori Ma la festa del mare Non è solo Celebrazioni solenni E anche festa Con tante novità Quest'anno Le novità Quali sono? Intanto L'istituzionalizzazione Della passeggiata pedonale Nel mese di agosto Dalle 20 alle 24 Dal ponte Sul porto canale Che unisce L'idola Sassonia Fino al pesce azzurro Una passeggiata Quindi dove Si può muoversi O sostare Di fronte Agli esercizi commerciali Che hanno fatto squadra In quella zona Ma anche Sui tavoli Dove si serviranno Le rustite Classiche nostre Si mangia sotto I pescherecci Si potranno vedere I fuochi d'artificio Anche da quella posizione Non solo sulla spiaggia Quest'anno I fuochi d'artificio Saranno un po' di più E in aria Perché in acqua Ci sono nuove norme Restrittive Quindi useremo di più Il cielo E poi ovviamente Musica E poi c'è la notata longa Alle 18 Che lancia in mare Centinaia di atleti Da tutta Italia Io penso quindi Un bel momento Che Dalla deposizione Della corona in mare Con le due imbarcazioni La Queen Elizabeth E il Caicco Che è un momento alto Il ritorno E quindi il momento Di convivellità Marina dei Cesari Il porto turistico Dove si fa un aperitivo Insieme E poi Nel raggiungere Le loghe della sera Saranno due giornate Molto belle A cui invito tutti La provincia di Pesaro Urbino Cogliendo anche Le opportunità Offerte dal decreto Interministeriale Che rimborsa fino al 40% Delle spese Per migliorare L'efficienza energetica Di edifici pubblici E privati Ha installato Nuove lampade a LED Al liceo scientifico Torelli di Fano E al campus Scolastico di Pesaro Al Torelli Sono state rimosse 85 lampade a tubi Fluorescenti Installando Altrettanto lampade a LED La diminuzione di potenza Consentirà Una riduzione Dei consumi Di circa 5800 kWh Con un risparmio Anno Di circa 1300 euro Il costo di lavori È stato di quasi 15.000 euro Iva inclusa Più consistente Invece L'intervento Al campus di Pesaro Per un totale Di oltre 117.000 euro Con i quali Sono state rimosse 806 lampade E installate 715 Al campus Ci si aspetta Un risparmio Di circa 5.700 euro All'anno E domani pomeriggio A Palazzo Bracci Pagani Si inaugura La mostra Di Edgardo Mannucci Per inquadrare L'opera artistica Di Edgardo Mannucci Dobbiamo pensare Ai grandi protagonisti Dell'arte contemporanea Come Burri Pomodoro Fontana Colla Mannucci È considerato Uno dei protagonisti Dell'arte plastica Informale Europea Nasce a Fabriano Nel 1904 E dopo i primi studi All'istituto d'arte Di Matelica Si forma artisticamente A Roma Alla scuola Di Quirino Ruggeri Di cui poi In seguito Ne sposerà la figlia E dove affina Il suo interesse Per il primitivismo Plastico Mannucci vive E partecipa Al secondo conflitto Mondiale I cui disastrosi esiti Come l'Atomica Di Hiroshima Ne segnano Profondamente L'animo Sul finire Degli anni 40 Indaga Le infinite possibilità Della forma Una forma Che all'estero Si presenta chiusa Ma all'interno Invece è animata Da energia E che si apre Verso lo spazio In quegli anni Flashart lo definisce L'uomo dell'avanguardia Del dopoguerra italiano Ora parte Delle sue opere Più significative Sono in esposizione A Palazzo Bracci Pagani Era un dovere Per noi Fare questa mostra Io mi auguro E spero Che molti concittadini Non trascurino Questa opportunità L'opportunità Di vedere In una raccolta Completa Tutte le opere Di Mannucci Davvero Un grande Contemporaneo Del XX secolo Fino a quando Sarà possibile Visionare le sue opere L'opera Apriamo domani E rimarrà aperto Fino alla fine Di settembre I primi giorni Di ottobre Lavori in corso Per il restauro Del dipinto Di Guido Reni L'annunciazione In deposito Nella Pinacoteca Civica a Fano Il restauro Dell'opera È stato possibile Grazie all'intervento Di erogazione liberale Del Lions Club Cittadino In applicazione Della legge Art Bonus Che sollecita L'intervento Dei privati A sostegno Della cultura Le tempistiche Di restauro Finora rispettate Verranno rallentate Per permettere Ad alcuni gruppi Di studenti Alla ripresa scolastica Di settembre E delle scuole superiori Di partecipare Dal vivo Alle fasi conclusive Del restauro Dell'opera Verranno dunque Contattati a breve Gli istituti scolastici Interessati Per poter organizzare La partecipazione All'iniziativa Alla Pinacoteca San Domenico Invece Domenica 6 agosto Alle 21.15 Ci sarà una serata Particolarmente importante In quanto ricorre La festività Di San Domenico Che verrà ricordata Con un concerto Di polifonia sacra Interpretato Dal coro polifonico Malatestiano Dirige il maestro Francesco Santini Da domenica Invece Torna l'evento Grigliate in festa A Montecucco Da domenica Ritorna il nostro appuntamento Di Grigliate in festa Domenica 6 Lunedì 7 E martedì 8 agosto Un appuntamento importante La nostra specialità Vitelone allo spiedo Domenica Anche il maiale allo spiedo Naturalmente Le nostre carnicotte Alla griglia Tantissimi appuntamenti Con delle orchestre Da ricordare Domenica 6 Nell'area festa Vaga band Lunedì 7 Gli aironi bianchi E martedì 8 Renato Tabarroni Naturalmente Ci sarà tanta animazione Per i bambini A cura del ludobus Dei paesi dei balocchi E l'associazione Tiro e molla Idea cop Con i gonfiabili E quant'altro Vitelone allo spiedo Lo facciamo noi Naturalmente aiutati Dalla proloco di Cusercoli Di Forlì Nei nostri amici Che ci vengono ad aiutare Praticamente è un vitelone Che cuoce nel girarrosto Dalle 6 della mattina E l'ultima porzione Si potrà assaggiare Alle 8 di sera Allora Preparazioni che vanno Per la maggiore Naturalmente La grigliata mista La tagliata Ci sono le fiorentine Le bistecche Ma non da meno Anche la trippa L'osso buco E le nostre piadine Farcite con i nostri salumi Di primissima qualità Fagioli con salsiccia E quant'altro Vi invito tutti a partecipare A Grigliate in Festa Montecuc 6, 7, 8 agosto A Monbaroccio Fervono invece I preparativi Per la rievocazione storica In occasione Dei 500 anni Del voto Fatto dalla popolazione Albiato Sante Era il 1957 Quando i monbaroccesi Vennero a conoscenza Del piano di distruzione Del paese Che Francesco Maria I Della Rovere Aveva in mente Di attuare Per riappropriarsi Ad alcuni territori Che spaziavano Dalla costa adriatica Fino al paese Di Monbaroccio Così Gli abitanti Del piccolo borgo Pieni di spavento Si misero a pregare Incessantemente Tutta la notte Il Beato Sante Chiedendogli la grazia Di essere risparmiati Da un così atroce destino E così Fecero un voto Al santo Se verremo risparmiati Dissero pubblicamente Ogni anno Ci recheremo In processione Dal paese Fino al santuario Per renderti omaggio Federico Malatesta Venne informato Del voto E siccome era Devotissimo Del Beato Sante Risparmiò la vita A tutti gli abitanti Di Monbaroccio E così Da 500 anni Il pellegrinaggio Per grazia ricevuta Si rinnova Chi giunge In questo luogo Trova un bel clima Di spiritualità Di raccoglimento Di Anche di silenzio Se vogliamo Perché è la nostra È il nostro Specifico In questo santuario Dove noi Conserviamo Il corpo Incorrotto Del Beato Il Beato Sante È morto Il 14 agosto Del 1394 Ed è per noi Una presenza Silenziosa Costante Come dicevo In altra occasione Un faro Un cartello Direzionale Che ci indica Una via Come poter vivere Il francescanessimo Alla sequela Del poverello D'Assisi Nei nostri giorni Ancora oggi Dal 10 al 13 agosto La Proloco Di Monbaroccio Proporrà Numerosi eventi Di carattere culturale Storico E ludico Si caratterizza Sulla storia Le prime due giornate Dentro il centro storico Di Monbaroccio Quindi ci sarà La rievocazione storica Della battaglia Dell'assedio Al castello Di Monbaroccio La seconda giornata Sarà dedicata Alla festa Il venerdì notte Così si decide Di fare La processione Per ringraziare Il Beato Sante Quindi tutta la comunità Di Monbaroccio Salirà il colle Al santuario Del Beato Sante Per ringraziare Di questa grazia ricevuta Quindi il 12 di agosto Ci sarà La presentazione Di un libro E ci sarà comunque Una rievocazione storica All'interno Del santuario Del Beato Sante Il 13 di agosto Ci sarà La processione Che partirà Intorno alle ore 9 Da Monbaroccio Con i costumi storici E per salire Alle colle Del Beato Sante Dove alle ore 11 Sarà celebrata La Santa Messa Dal Vescovo di Pesaro Alla presenza Di autorità civili Militari e religiose Il tutto Sarà coronato Qui al santuario Del Beato Sante Da un'antica fiera Di merci e bestiame Quindi si passerà Anche alla parte Ludica Ricreativa Dove si potranno Gustare E assaporare In tutti i giorni Sia Monbaroccio Che qui al Beato Sante Dei prodotti Dei piatti tipici Curati dalle nostre donne Della cucina Della Proloco E si potranno Vedere Gli animali Mucche Cavalli E poi ci sarà Tutta una fiera Un'esposizione E un'esposizione Anche di mezzi Storici E tra l'altro La particolarità Che ci saranno Anche due mezzi Due tre mezzi Storici Dei vigili Del fuoco Quindi siamo In un bosco E quindi vogliamo Ricreare Anche questo ambiente L'importanza E la salvaguardia E la tutela Di questo luogo Magico E silenzioso E adesso ci colleghiamo Con Lino Balestra Che si trova A Ripalta Di Cartoceto Eccolo qua Buonasera Lino Insomma è partita Questa ottava edizione Del Borgo in festa Sì buonasera Simona Buonasera a tutti voi Noi siamo venuti qui Con l'operatore Filippo Pucci A Ripalta A vedere come stanno Procedendo I preparativi Per accogliere Tutte le persone Che verranno qui In questi tre giorni Ripalta Lo ricordiamo È un borgo Una piccola bomboniera Una chicca Del nostro territorio Che merita Di essere visitato E questa festa Non fa altro Che valorizzare Questo piccolo Fazzoletto di terra Di cui Questi ragazzi Gli amici del Borgo Insomma creano Appositamente Una festa Per enfatizzare Quelle radici Quel territorio Che così tanto Gli piace E qui Mirko Fiorelli È da tempo Colui il quale Spinge Questa nuova associazione Da diverso tempo Verso questa direzione Insomma vi piace valorizzare Le vostre radici Il vostro territorio Certamente Siamo arrivati All'ottava edizione Ma non è Mirko Fiorelli Che spinge Ma è tutto Lo staff qua dietro Sono questi Che spingono veramente Il cuore pulsante Di questa associazione Solo loro Perché veramente Riusciamo a dare Un qualcosa Che piace a tutti E teniamo vivo Il nostro piccolo paesino Di 70 persone 70 persone Pensate 70 persone Ma il bello di questa festa Tra le importante feste Che si verificano Nell'estate Del nostro territorio È il clima Che si respira L'atmosfera Casalinga Casareccia Di una volta L'aia Lì più lontano C'è la chiesa Siamo in un territorio Sembra di respirare Un clima Di anni 40 50 Questa è la vostra forza Certamente Aria genuina Siamo all'aperto Ma ci piace veramente tanto Assaporare tutti i nostri cibi Che veramente Questo staff prepara Tutti i cibi Veramente a chilometro zero Quest'anno poi abbiamo Una novità Abbiamo l'oca in porchetta L'oca in porchetta L'oca in porchetta Era sempre il coniglio Il fiore all'occhiello Ma quest'anno Siamo passati a l'oca A l'oca che vogliamo Far assaporare Quindi Ci sono tre belle serate Anzi quattro Perché la prima L'abbiamo fatta ieri sera Ma era una serata familiare Bella serata Da stasera Abbiamo una serata caliente Bel sole La serata latina Latina In cui presentiamo qua La nostra Jenny Dottalevi Che è proprio Ripaltese Doc 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 Anche Autottona Autottona Che ci farà vedere Anche un balletto Perché stasera Sarà la serata latina Con un kick Con un ritmo Vai Jenny Va bene Allora vi lasciamo Con questa kick Con una performance Della ripaltese Ripaltese Dock E siamo Quando Mirko ha detto Siamo passati a l'oca Alle mie spalle E le risate Sono sfiorate Insomma Spontanee Va bene Da Ripalta è tutto Venite qui ragazzi Perché Insomma C'è Di che dilettarsi Va bene Tre giorni Tre giorni Restituisco Alipalta Restituisco la linea Allo studio Intanto se Filippo Pucci Ribalta il fronte Vediamo una piccola Performance Stemporanea Dei ballerini Bene Grazie a Lino Balestra A tutti i suoi ospiti Ovviamente Ai due ballerini Dunque Lunedì sera Invece All'Arena BCC Di Fano Si torna a ridere Con la compagnia Il Guitto Allora Il Guitto Compagnia Di casa Quest'anno Cosa portate Qui alla BCC Arena Quest'anno Portiamo Stematrimoni A Sadafac Una Rivisitazione In chiave comica Dei promessi sposi Insomma Quest'inverno C'è stato Un grande successo Avete dovuto Ampliare Il numero di repiche Tanti attori Sul palco Un bel lavoro Insomma Vi ha impegnato parecchio Sì Abbiamo avuto Un bel successo Di critica E di pubblico Quindi Siamo molto soddisfatti Anche perché Abbiamo inserito Molti giovani Che ci hanno dato Un progetto È stato Un progetto Molto riuscito Insomma Non è solo Un recitato C'è anche un ballato Un cantato Una sorta di musical Sì Ci sono dei pezzi Cantati Ci sono delle coreografie Sì Un lavoro completo Qui a BCC Arena Di sterpaglie Sulla panoramica Tra Fano e Pesaro I vigili del fuoco Sono quindi impegnati Tuttora Nelle operazioni di spegnimento Nelle prossime ore Poi Vi terremo Aggiornati Per l'informazione È tutto Vi ricordo Ovviamente All'appuntamento Delle 7.30 Di domani mattina Con occhio Ai giornali Questa sera invece Andrà in onda Una nuova puntata Di box Poi in cucina Con lo chef E uno speciale Sull'inaugurazione Del nuovo punto vendita Net Plus A Fano Grazie per la vostra attenzione E buon fine settimana A tutti voi Grazie per la visione